Ognuno ha i propri dolori nella vita e io ho semplicemente deciso di non farmi buttare giù dai miei dolori, nonostante mi abbiano sicuramente scalfito, però di strumentalizzarli e renderli qualcosa di costruttivo, di utilizzare quella cosa negativa che è successa nella mia vita in qualunque momento e di trarne forza, di trarne un insegnamento.